Eccomi, eccomi, eccomi! Frigati che stanno chiudendo il volo! Papà, raggiungo degli amici a Miami. Giulia, senti? Giulia! Welcome to Miami Beach University. Mi senti? No, purtroppo stasera niente burraco, sono a Miami. Ma non ci facciamo ricon... Spegnilo, papà. In mezzo a sta banda di matti, ma qua andiamo. Oddio mio padre! Da chi stavi scappando? C'è uno che mi dà il tormento. Dica che fa, scusi! Oh my god! Ma non era partito lei? Le low cost avevano esaurito i posti? Sei andata a letto col figlio dello scarpaio! Sei andata a letto col nemico? Oh! Sorry. Lo scarpaio c'ho 48 ore via da pianta larga, per cui se devi accarci, te faccio male. Oggi va tutto sto. Oddio vicinità. Lei è una brutta persona. Tu pretendi di cercare una ragazzina di 17 anni scappata qua a Miami alle 9 di mattina? Ma quella alle 9 di mattina va a dormire. Magari stasera va in un locale, farà stesso sfrenato. No. Non giocare su queste cose che a me mi s'è alzata nessuno. Mi si è rotto il tacco! Oh my god! Io mi s'è rotto il cazzo! Oh my god! Nonno, è illegale. Non ti preoccupi. E invece ti preoccupi. Madonna che fiata! I'm your master and you are my sister. Ah! Ma che sa faccio il quante sfumatore di grigio? Potrei piacere ancora. Te no, ma la carta di credito tua sì però. Vaffa. Mandiamo un selfie alla mamma. Un selfie? Posso indostare la pulciara? A Sabaudia. E noi indostiamo? A Miami Beach. C'è l'audio? È un selfie papà. A punto.